Yuki e tutti duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo di nuovo, siamo a Buzz, incredibile. Stessa maglietta, anche lui, non è assolutamente la stessa situazione, registrata dieci minuti dopo, assolutamente no. Quindi sappiamo già che vi è piaciuta la prima decklist di Samurai Super Pesante, e quindi oggi siamo qui con la profile di Bessia Cristallo, visto che ce l'avete chiesto a voi, con un po' di prof, c'è un paio di prof. Ce n'è una. E un'altra che... No no, ce n'è una, l'altra non serve. A prima iniziare vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Jack Store, il mio sponsor per prodotti coreani. Trovate il link del mio... sì, del mio, del loro store qua sotto in descrizione, insieme al codice sconto, se volete supportarlo. Inoltre, se volete liberarvi le carte di Yuki, Magic, Pokémon, Dragon Ball, One Piece, Forza Wheel e Digimon, trovate il link di Instagram qua sotto in descrizione. Contattatemi, mandatemi le foto, e se c'è qualcosa di interessante, se ne può parlare. Detto questo, vada signore con la profile. Allora, partiamo da fatto questo mazzo. Fa schifo. Ah, non fa schifo. È ok. Però, non è un T1, non è un T2, quindi le aspettative che si possono avere sono da setà chiare. Partiamo dall'engine, va. Allora, intanto servono sette nomi, perché sennò il Dracocobaleno sul terreno non ci arriva, e quindi mancano le fusioni. Prima dell'uscita di Golden Rule, il supporto che si spera uscirà in Battle of Legends Monster Revenge, come Diamonds si chiama il nuovo Battle of Legends. Tocca giocare avanzate. Anche dopo forse giocheranno, però dopo sarà più interessante vedere una lista pura. Nel momento giochiamo anche le avanzate, che fanno... Cioè, non fanno schifo, sono decenti, però senza la terra non muoiono, quindi... Eh, da capì. Parta più forte del mazzo, beh, Pegasi non penso che li spiego. Fa una stessa cosa. Quello che Pegasi originale prende da cimitero, quello avanzato da bandite. Tutte le avanzate, diciamo, hanno più o meno un legame maggiore con le bandite. Carbancol speciala tutti quelli in Spell Trap. Carbancol forte, dice una volta per turno, si speciala da solo, senza effetti, speciala tutti gli altri avanzati. Quindi è Carbancol base ma più forte, però è once. E se lo specialate normale non parte l'altro effetto, quindi comunque un po' diverso. Aquila, che si scarta per raggiungere Advanced Dark, la carta che rende vive le avanzate. Poi Zenith. Questo, cioè, non si chiama più Zenith, adesso si chiama Besta Cristallo Drago Arcobaleno. Un tempo si chiama Zenith, non si dice, non sbaglio. Tanti millenni fa. Fondamentalmente lo portate con Pegaso, si bandisce, ha da Drago Arcobaleno in speciala uno. Molto solido, se ne potrebbe giocare due, non c'ho il secondo dietro, quindi ce ne sa uno. Ce ne sarà uno in sta profile. Poi servono due nomi aggiuntivi, perché siamo uno, due, tre, quattro, cinque. Questo non conta perché si bandisce, quindi su terreno e cimitero non conta. Ne mancano due. Tutti gli altri sono tutti brick, dal primo all'ultimo. Quindi, o si gioca al secondo di questo, che è un'opzione, più altri due, perché generalmente sette nomi senza quel secondo, o otto nomi con... E poi gli altri due shotgun in più generalmente sono questi, perché volete i livelli tre, perché fa Cerubini, alla fine poi è nell'extra. E vi aiuta a mandare l'ultimo a cimitero, perché lo fate con uno di questi, poi vabbè c'è le line, non importa, ormai ci arriviamo. E in più, stranamente, chicca stranissima, attacca diretto sta roba. Quindi in time, capita qualche volta che fate normal, bitto o men due, però la tafacomo per 25 minuti, vedete cosa fa l'oppo. Due di questi, perché se lo pescate, non parte Zenith e siete messi direttamente male. Tre di tutte le spell, sono tutte forti, è inutile sta discute. Questa ha da una, praticamente una qualsiasi, questa ha da una delle due sotto, è dalla normal aggiuntiva, fa bounce nel turno dell'oppo, col secondo risveglio è fortissimo. Questa ha da una e mette uno in spell trap, e questa se ci avete drago arcobaleno, o manda una cimitero, o ha da uno, o special a uno. Molto forte, se controllate un drago arcobaleno, anziché averli in mano, fa entrambi gli effetti, quindi o special a... O ha da o send a maggio trappola, e special a uno. E lo spot può succedere, non è per forza comune, ma non è manco improbabile. E mono, perché fin senza golden rule serve un nome in più da aggiungere, questa è la migliore. Un omni a caso che aggiungete con serie Uia vi aiuta. Poi l'altra carta per sendare insieme a risveglio, che è ponte. Questa dice cimitero, se poi lo conoscete pure di questa l'avete vista, si bandisce, ha da un mostro una terreno generica, qualsiasi. Il target ovviamente, nonostante esiste Advanced Dark, chiaramente lo ha date aggiungendosi direttamente Aquila Conquesta, quindi un secondo target. Molti giocano in Croval, giocava il format scorso, c'era ancora Tier, cosa adesso che non c'è più. Questo è il target migliore che c'è probabilmente, se fa l'Ecolex all'Incantatore. Poi, consistenza. Questa non so solo consistenza per l'Engine, perché l'Engine generalmente con due carte, a combo delle carte ce n'è veramente tante ridondanti. Però ci aiuta, vede una carta molto più interessante, che è questa. Anche questo è il Brick, questa pure conta. Perché il mazzo soffre in maniera inconcepibile droll, e quindi fate tipo pot, se mettete in mano questo l'oppo non può fare droll il reso. Molte spelle potete risolvere senza droll, potete aggiungere direttamente Colle dell'oppo, veramente non ce l'ha per tutto il turno droll. E l'altra cosa interessante è questa, per Thousand Islander Stick, sempre per droll. La carta che non gioco, che diceva prima il signor Cappello che manca, è il secondo di questo, che ci sarebbe da mettere. L'altra cosa che si può fare, se non mettete il secondo, è un nome in più. Generalmente uno normalabile, un pelo, cioè veramente altrettanto utile. Preferisco il secondo, non ce l'ho dietro, quindi oggi va così. Però ci posta un altro nome, tipo l'altra, qui la base, oppure Tartaruga. Se volete fare combo con Rival, magari, che è una combo storta che si può fare, magari vi aiuta di più a mettere Tartaruga per i livelli attributi. Limite dei mille occhi, ovviamente, per Instant Fusion. E poi tante volte lo linkate via, se l'oppo quando avete finito per droll, è buono. Le fusioni besta cristallo d'archetipo. Due di queste, perché la potete fare più volte. Questa ne basta una, solo una carta di passaggio per climbare. La combo base, per ora, finché non esce col derul, passa per quest'altra carta, che spesso vi fa schippare la main. Quindi cercate di fare una board con tipo Eib, che è la carta che oggi manca. Usiamo l'altro amico che non è Eib. Eib è uno spellcaster, vuole due mostri di attributi e tipi diversi, se non sbaglio. È uno spellcaster che non può essere distrutto, targettato, in battaglia, robine, quindi vi aiuta sotto villaggio. E fate Eib a polla, più questa fusione grande. State con le neghetti a polla il più possibile, pure Eib. Poi in end vi fate effetto, rimischiate tutto nel mazzo e riparate tutte le besta cristallo bandite. Compreso, peraltro, Dragor Cobain o besta cristallo, quindi vi aiuta parecchio. E siccome vi trovate nello spot in cui avete board piena, dovete saltare la main, andate attenti in battle e provate a chiudere. E quando c'è la golden rule, sto mazzo sarà infinito più decente, ma nel mente tocca che ci si arrangia. Questa la finiamo dopo. Poi, per la combo, appunto, serve generalmente. Undugare, ci passate all'inizio. Poi la seconda cosa che fate è Saryuja. Vi aiuta sia perché ci fate questo tesoro sopra, ma soprattutto perché vi aiuta a pescare quattro, a vedere altre carte di Angel se vi servono altri nomi, o a vedere uno degli addini per raggiungere la trappola che è un omni. O aggiungere un'altra rapida, perché con Rainbow Bridge of the Arts su terreno la rapida diventa Bounce a uno, che è solido. Questo che sia sopra Saryuja perché vi blinca Dragoria, sì, Dragor Cobain no, Pegaso Zaffero. E fa mettere un'antescala. Questa la fate generalmente con la combo, finisce tipo questo, Pegaso e basta. Effetto, blinca Pegaso, fate Link 2, fate questo, evocate il Dragor Cobain in mano, lo tributate per evocare questo qui e poi dopo con la Cipre Borna 1 e da lì potete continuare. Moe Macrobini, questo serve perché aiuta a mettere il nome. Qualche volta ci sono le line in cui è necessario, tipo con Carbancol va aiutare a Senda 1 in generale. Queste handboard, queste due sono altre handboard spesso che servono. Carta da sé con generica, altra carta da sé con generica che fate sopra Bagusca perché non ha senso mettere altri target. E poi Ibb che oggi manca, Ibb World Chalice Princess. Link 2 appunto, dicevo, punta a destra a sinistra, dice non può essere tutta in battaglia, degli effetti le carte non può essere targhettata finché è linkata. Quindi se sta sotto a polla, conta come linkata, è bella protetta e c'avete anche villaggio con la line, cioè con la line con una mano decente. Signori! Toh, pietro su brick. E niente, ce l'abbiamo Ibb, è successo. Era assolutamente in mezzo alla palta, non era assolutamente lì, poi manco in lingua leggibile, però meglio in tedesco che niente. Sì, meglio in tedesco che niente. Questa era la carta che dicevamo. Board finale, super semplice. 1, 2, 3 e villaggio. Quindi l'oppo comunque non gioca a spell trap, questo è difficile da notare. Devo da prima polla. Le negate a polla potete bene o male bruciarle. Se arriva anche uno spot in cui vi serve che non potete più aspettare, fate questo alla fine. Schiafflate tutto, tipo sotto Zeus, comunque queste cose qui. E poi, ah peraltro questo è un 11.000 d'attacco, quindi l'oppo non può manco andarci in battle sopra per attaccare, tipo per far Zeus e robine. Quindi tipo, cioè, aiuta. Perché dice che se combatte questo turno non può attivare l'effetto, quindi vi aiuta questa cosa qui che è un 11.000, quindi difficile che vi ci combattono. Queste con villaggio vi aiuta e poi alla fine gli schiafflate tutto, rifate board. Se non avete fatto Dugare, scusa, non è impossibile, potete fare un altro turno dei combo, fa il secondo, chiude comunque. Lo spot, no, semplicemente andate in battle e chiudete perché danni so. E niente, questo è il mazzo, come dicevo è quello che è, quindi se volete dei main potete mettere altre carte da second o da primo, non serve tantissimo, però second aiuta, ci può sta droll, ci può sta ruler, altra ht. Sarebbe decente droplet, però il metadee cash tira ovviamente droplet non parte, quindi sta a voi, pensate se vi piace, c'è tipo local senza cash tira, magari droplet è forte, può essere spoli, l'extra, la roba cattabile c'è perché queste due le potete togliere, queste due, magari di Vagusca no, ma Zeus sì, queste tre sono spazi. Comunque poi lo spazio a trovare, lo mettete, può essere spogliere veramente tutto, che magari vi aiuta da second perché sono il mazzo da second soffre tantissimo. Da primo decente. Non vi faccio vedere una combo perché la realtà è che le combo non c'è davvero. Il mazzo è un po' come magari Flaffale, è molto poco deterministico. Intanto la mano caprite porta una linea diversa e poi dipende veramente da cosa avete Sariuja che ha catticcioloppo, non c'è una combo dritta. Generalmente la base è avere uno o due Pegasi, cominciate a metterle avanzate sotto, se vi serve continuamente i nomi potete fare Dugares per rebornare, se no è forte fare Dugares di pescare due scarto uno, tutte le carte che vedete, tutte le specchiette, tutte rottissime, quindi vabbè in tutte. Fate un altro po' di nomi, vi fate Sariuja da quattro, possibilmente con un Pegaso in mano o terreno in più, questo sopra Sariuja, brincate tutto, poi fate Link 2 per Crosship, specialo Dragor Cobaleno che ve lo aggiungete di Beste Cristale o Dragor Cobaleno che si mette sotto il Pegaso speciale a uno ad uno, anche da lì per esempio fate tipo Normal Pegaso, attacco Dragor Cobaleno Beste Cristale, effetto porto Aquila o porto comunque l'altro Pegaso, poi un Pegaso normale uguale. Dragor Cobaleno fate questo, scarto pesco due scarto uno, se c'avete un mostro cimitero è buona, poi la line comunque non è difficilissima da arrangiare. Fate Crosship, specialate Dragor Cobaleno, questo specialate buttando Dragor Cobaleno, Crosship Reborn a uno, i nomi ce l'avete, poi questo potete linkare via, quindi potete linkare tipo a quattro a polla, con due nomi a caso fate Ibb, standard accesso, cioè sia il Carbancolo avanzato, il Carbancolo base con la rapida da cimitero e quindi poi qui c'è fatta polla, praticamente con Reborn questo e questi due più Reborn, c'avete a polla da tre, due mostri a caso fanno Ibb e questo si speciala praticamente gratis, c'è pezzi a cimitero, quindi bandite tutto e specialate e state nella borbase. Con le mani più forti potete aggiungere la continua, lasciate su board anziché bouncearvela gratis per evitare che ve la spaccano, con la rapida e nel tour dopo bounce a uno, oppure sempre un mostro nelle zone spell trap o su terreno, con la counter trap diventano omni, comunque poi le line diciamo sono estendibili in base a quello che aprite. E va bene ragazzi, il video finisce qua, spero come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere se li volete bazza ancora una terza, una quarta volta. Devo avvicinarlo prima che ci ingloba, non ce la può fa, peccato, è troppo picco. Serve quello gos, con quello gos e riusciva. Dici metteva a fuoco e si vedeva proprio la gos. Esatto, proprio bello, quello 600 euro, proprio... Quella mi manca, non c'è... Mi piace. È un investimento, un investimento. Fatemi sapere qua sotto con un commento se il video vi è piaciuto e noi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti.